we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci chiuderone da bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio velocissimo video io sono xyuder e ragazzi nuovo fortbite come sempre l'appuntamento in tempo reale con l'uscita dei nuovi fortbite è solo su questo canale per questo per questa volta per il numero 16 dobbiamo andare nella casa rossa a gerusalemme quindi come vedete dove ci sono le due poltrone sul tetto se non ricordo male esatto è proprio questa quindi basta semplicemente entrarci ragazzi ed eccolo qua nell'angolino fortbite numero show mi ammazzano sempre fortbite numero 16 preso io vi ringrazio per aver guardato questo video un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 ciao